Ciao a tutti, sono qui con Sebastiano Andino, non è vero, un idolo di questa Superlega, però devo dire che sei un po' scroce e delizia della tua squadra, a volte determinante per la loro vittoria, altre volte invece rischi di perdere delle occasioni, di mettere a rivalità con la partita, come mai? Sì, perché questa partita non ero in forma e poi avevo un dolore alla gamba, per questo ho dato purtroppo delle occasioni alla squadra avversaria. Ma devi essere più costante, c'è qualcosa che ti distrae. No, no, non c'è niente che mi distrae, è solo che non ero in forma. Mi raccomando per le prossime partite non farli arrabbiare perché come vedi sono abbastanza adirati con te. Stava male, no, no, la prossima volta farò di tutto per ricompensarli come se io non ho le cose. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Io mi raccomando, in bocca al lupo per le prossime. Ciao.